Musica 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 Ben a tutti ragazzi ben ritornati nel vostro Joker Siamo ritornati in uno sculo opening pack mega cagliardo E si vabbè E voi chiamali ancora un po' più fighi sti cosi no? Vabbè Jesus Christ opening pack Siamo ritornati con Ciccio perché me l'avete chiesto Spacchetta con Ciccio Ma porta più jella a lui che non gli è tatore porco 2 Ma non è vero Su Fima 15 mi ha fatto una nucazza Aspetta voglio dire una cosa a mio favore A inizio trovavo la madonna Basta ma a certo punto ho detto Basta faccio più opening pack Ma trovi un cazzo Ha capito ben di portarsi Sfiga pure qua Sì Comunque Andiamo subito ad aprire i pacchetti ragazzi Ci sono eccoli qua 10 pacchetti Quelli oro maxi Un extra raro che non ci troveremo sicuramente Beh coglioni Ce ne stanno Sì 15 Stava di 10 E sono 150.000 che dice partono Sì Ci hai muo pari pari Bene Ok perché ho venduto uno trigo if Ok Quindi ragazzi Apriamo subito i pacchetti Sperando di trovare anche Festa fa malo Perché se trovo uno if È muo di una madre non faccia Dovessi trovo qualcuno subito De fondamentale Troviamo al San Maramirin Che gli manca pure in dentro centrale Mamma mia ma chi cazzo Ci passano i treni Guarda Mamma mia Vabbè poi vediamo dopo quanto costano Quindi vabbè Primo pacchetto Bello È quello che praticamente Entravo mai in cazzo Veramente Se sta scalare Rp vita Ci fa trovare lui Subo dice Mortacci 2 Wills Chi è questo Mamma mia ragazzi Mamma mia Mancosuo sa Quello che c'è stato In questo pacchetto Porco 2 Va a fumoretti Poi camminare Non cazzo Ma tante volte mai Che fanno come americani Che trovano Oh my god Royce E poi davano 7 in forma E visto me fanno Non è Beh parlo pure io in English Ah ma dopo mettiamo in English Alla quando spacchetti tu Oh my god It's a packet It's a beautiful Ecco vedi Eliseo ma vaffanculo Ma non stanno Non stanno i giocatori Messi ho trovato Messi Reconbase Eh sì sì Sono Messi Sì sì Bello regà Da mi sento pronto Ma si sente pronto Ma tanto neanche in inglese Mi metto vaffanculo Return of the church game Or 109 Che Look 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 Yeah Look It's incredible Cut Marco mi ha messo un po' Paprillo eh Gervinio Vabbè almeno si Ma me dovevi fatto La pianiscia da Roma No Gervinio Fellaini E che ce faccio col panetto Non è vero Almeno è simpatico Gervinio Eh Ti ha stato tanto simpatico Ma ho fatto così ride No Non ho detto che Fè farita Ha detto che è simpatico Non ho detto niente Si manpegnate Oh ma sto impegnata Dai Mamma mia C'è trovo uno if Magna la cera Magna che lo trova Ma è una volta che me dà la soddisfazione Wow Argentone Ma che ti ho trovato Chi è Mamma mia C'è con lui Porco te Ragazzi se mancano 5 Il penultimo Il penultimo Il penultimo Ma la voglio hazard Ragazzi Vai 875 giocatori Porco Due oro Nessere Sapore Fratello E Trovato I baggati Come fanno A quelli così Perché sono A cinese 80 Deve lucidare Centone Mamma mia Guarda quanto costano Tanto Mamma mia Che schifo Non è possibile Io come faccio un patto con gli esporti Molichiamo De giudico Perché tutti E' meccanico Trovo un pacchetto Pura bricotti Oh Trovo un cazzo Non trovo un cazzo Tra un'altra Marta Suba Dici Rimando Due Argentoni Ma Papà Perura Tu Papà Pupupu Due Argentoni Ho trovato Eh sì Ma Un culo Subo Dici di merda Un'altra Torta Lui Ma se Dicono Si è Parolace Porca Quella Troia Senti Amali Stati Sperimenti Va a cagare Venti Ne mancano Quanti Ne mancano Tre Pacchetti Vai vai Apri Questo Dai Mi Forza Beh Ma Sce Ma Andate Tutti Affanculo Bella Si Montigliano Damma A me Davvero Dai Sti Cazzi Vai Te devi Girà Te devi Tantano Girà Te devi Tantano Non Te girate Devo controllare Una cosa Non so Così Mi dispiace Ho trovato Una All'83 Ho detto Questo è Buono Ma Manso Di romanzo Chi ce l'ha Trovato Ma Vaffanculo Va Tutta Sta Cosa Per 1500 Crediti A Tutti Attributi Argento Se mi Permette Vado Vado A vendere Perché Dobbiamo Andare A vendere Due Giocatori Ho Appena Trovato Gervinio Eh Si Hai Visto Che Culo Ultimo Pacchetto Te devi Gira Eh no Simo Perché Visto Se sei Girate Abbiamo Trovato Manzutino Manzutucci Signori Questo è Pacchetto Insallegge Non devi Guardare Non guardare Perché Questo è Uno If Dalla Puttana Proprio Semon Non te Gira Semon Te Gira Perché Mamma mia Questo Questo Mamma mia Questo Poco Ti Spacca Popolano Niente Se Poi Gira Lui Stavo A Mio Ma vaffanculo Ok Ma è Colpa Mia Ma tu Fa poco Caga Eh no Poco Caga Fa No Mamma mia Che Sfugli Che Sfugli Poco Ciccio Vado Riportato Portacci Vostra Mi chiedere Più Chiedetene Altri Così Butto Crediti Andiamo A aprire Per me E Tanto Non lo pubblico Perché Troverò Merda Quindi Ragazzi Grazie Ciccio Ma Allora Ragazzi Questo qua Praticamente È Ho preso Veramente Un Botto Perché Oggi Credo Che Cioè Adesso Oltre a Videodea Vado a Spacchettare All'incirca Vediamo Un altro Dieci pacchetti Questi oro Se Semmai E Poi Ci punteremo Tipo Un milione Un milione E mezzo Dedicato Al pacchetto Quelli Dei Toti Specialissimi Quindi Apriamo Qualche pacchetto 7500 Da aggiungere A quell'altro Video Dove sta Facendo Con Cicciolo Schippiamo E troviamo Mario Alaba Ci fa trovare Lui Lavezzi E 4000 Crediti E un pacchetto Oro Minchia Buonissimo Ragazzi Oh Schippo Eh ma Che cos'è Clean Flash Clean Quanto costa Clean qua Eh la madonna Eh la madonna Che argentone Oh 18 15 mila Crediti Argentone Ragazzi Ottimo Direi Beh Non mi posso Lamentare Schorle L'abbiamo Trovato E lo mettiamo In da sacca Oh De Gea Ho trovato E non è E io ce l'ho Super stiff Straffa Straffa Però De Gea Altri 9000 Di giocatore Ragazzi Ottimo Oh Diego Costa Doppione Grazie Che culo 70 mila 70 mila Di giocatore Oh Yeah Ah ma Ce l'ho Puro Più Nel normale Minchia Ragazzi Minchia Aspetta Allora Qua dobbiamo Fare una cosa Seria Costa Circa 60 mila Crediti Ottimo Ottimo Ragazzi Vedi che senza Ciccio Qualcosa Trovo Anche è vero Che c'ho Un miliardo Di crediti Sto tenendo Tutti quanti Per fare Il mio Opening pack Mega galattico Di Ronaldo E Ibrahimovic Questo me lo metto Prezzo di partenza 50 mila Vai così Costa Grande Oh E schifo E trovo Uno in forma Si Vediamo quanto Costa Trovo In forma Beh 13 mila Crediti Però sono rientrato Nel pacchetto Che ho speso Ma è proprio Il gusto Di trovare Un forma E dai Il giocherino Sempre uno E se lo trova Però notare Che non c'è Ciccio Ragazzi Allora È l'ultimo pacchetto Ragazzi Con il pipita 7500 Senza Ciccio Abbiamo trovato Costa Uniforme Un altro buon giocatore Chorl 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 E vediamo un po' Chi troviamo adesso Niente Richards E abbiamo trovato anche Un argentone Che vale tipo 15 mila Ragazzi Quindi c'è andato Molto molto bene Vabbè Questo non vale niente Ragazzi Io sono Pronti Pronti Come vedete Un bel Millioncino E 500 Mila crediti Per trovare Loro Messi E tutti I toti Con Ronaldo Eccetera Eccetera Ultimo pacchetto Giocherino Lo schippa E non troviamo nulla Bello Adesso Per finire il video Bella